ciao ragazzi io sono nicodine sono ritornato con un nuovo video nuova sfida anversa versus gen mi raccomando lasciate un mi piace iscrivetevi attivate la campanella per stare sempre aggiornati con i miei video vamonos allora ragazzi questa è tutta belga purtroppo ho detto vabbè li facciamo tutti così comunque non costa niente fare questo questa sfida meno di otto k sicuramente sempre se andate a trovare tutti questi giocatori che vi faccio vedere li potete utilizzare tutti potete fare così come ne ho fatti io tranquillamente questo l'ho messo champions perché purtroppo non avevo la carta normale però se voi avete la carta base la potete mettere base ok come vedete dos è stato comprato 750k quindi niente proprio va bene andiamo a ritirare il premio il premio il pacchettino e con questo abbiamo finito gli incontri principali mi raccomando fatemi sapere che cosa avete trovato nei pacchetti e noi ci vediamo con un prossimo ciao ciao